In Germania usano perfino coltivazioni sottratte ad altre culture. Le nostre aziende agricole usano invece gli scarti, ciò che resta dopo la lavorazione. Bucce di pomodoro, cibo che spesso sprechiamo, scarti agricoli, si trasformano in combustibile e rinnovabile. Il biometano, che oggi contribuisce per lo 0,7% al nostro fabbisogno di gas. Negli impianti di gestione anaerobica, cioè in assenza di ossigeno, si immettono i rifiuti organici o gli scarti agricoli, i batteri lavorano in assenza di ossigeno e producono il biometano. È un digestato, un digestato che può essere usato come compost nei campi agricoli come fertilizzante. Digestione anaerobica vuol dire che non ci sono emissioni di gas verso l'esterno durante la produzione di energia. Sono oltre 1.700 gli impianti, molte nelle 800 aziende del Consorzio Italiano Biogas. E come volumi oggi siamo il secondo produttore di biometano in Europa, dopo la Germania. Il piano nazionale di ripresa stanzia quasi 2 miliardi di euro per lo sviluppo del settore. Riusciremmo a ricavare qualcosa come 8 miliardi di metri cubi, cioè più del 10% di quello che attualmente consumiamo. Gli impianti per ottenere il biometano dai rifiuti sono circa 60 e sono quasi tutti al nord, a bloccarne l'espansione e le resistenze delle comunità locali, preoccupate dall'impatto ambientale delle strutture. Nel 2030 da scarti organici con una ottimizzazione della differenziata dagli scarti agricoli si arriverebbe a produrre biometano pari al 16% del consumo annuale di gas, con l'abbattimento del 6% di CO2. Un comparto strategico quindi che attende il varro di un decreto per incentivi e il potenziamento degli impianti. Appena si sblocca questo si potranno finalmente realizzare gli impianti, sempre che si riesca a superare il problema del consenso locale, perché il problema del consenso locale esiste. Un'occasione per aumentare la produzione nazionale, provando per quanto possibile a ridurre la dipendenza dall'estero. La Commissione europea ha dato il via libera alla coltivazione di 200.000 ettari in più in Italia. Potremmo coltivare 200.000 ettari in più, quanto potrebbe aumentare la produzione e su cosa dobbiamo spingere maggiormente? Beh, siccome le semine sono adesso noi dovremmo spingere su mais, su girasole e su semi oleosi, soprattutto ad esempio la soia. Chi coltiverà questi ettari? Saranno veri imprenditori o magari anche persone che utilizzano l'agricoltura come hobby? Ma sicuramente ci sono dei veri imprenditori. È chiaro che oltre 200.000 ettari ci sono anche tanti terreni che nel corso degli anni non sono stati più coltivati perché i prezzi erano troppo bassi. Noi speriamo che fra i veri imprenditori e qualche magari imprenditore hobbysta della domenica, si riescano a coprire quelle superfici che sono necessarie per aumentare il grado di autosufficienza dell'Italia. Ma si chiede la garanzia che i terreni siano usabili in modo efficiente ed economico. Il calcolo è della Confederazione Italiana Agricoltori. I numeri potrebbero scendere molto, a meno che il governo non garantisca in tempi record i redditi di chi andrà a investire in queste nuove coltivazioni. Sono molto scettica in quanto i terreni incolti oggi lo sono per specifiche motivazioni, in quanto probabilmente sono stati lasciati incolti in posizioni geografiche impervie e perché probabilmente poco fertili, se no naturalmente gli agricoltori li avrebbero coltivati. Quindi questo aumento di ettari non credo possa risolvere il problema che abbiamo oggi in Italia. Va detto inoltre che molti coltivatori hanno smesso di produrre mais per i costi molto bassi e per questo è importante raggiungere accordi di filiera per garantire un prezzo equo. La strada non è tutta in discesa, ma sicuramente è un primo passo a sostegno di un settore in grande difficoltà, con il 30% delle aziende a rischio chiusura per l'impennata dei costi energetici. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS